niente ce le ho tutte e manca solo quella lì max sai che ho quasi completato l'album delle figurine mi manca solo l'albinone f una roba incredibile da non crederci ammazza raffo ma te devo di sempre tutto ammazza come sempre storico con ste figurine vieni nel presente perché la moda del momento è collezione il tuo decreto covid 19 autocertificazioni covid 19 l'esclusiva collezione dei fantastici moduli ministeriali da compilare in sole 816 mila uscite potrai completare la collezione del momento scaricale tutte ma allora è capito adesso ne ma sai che hai ragione basta figurine da oggi anch'io colleziono le autocertificazioni covid 19 collezionale anche tu